E aspetta, oh mio dio, siamo solo gli Inzaghi davanti al portiere, oh santo cielo, è arrivato il momento, lo sapevo, ora Inzaghi me la passerà quando saremo davanti al portiere e mi dovrò far trovare pronto, sapevo che il mio momento sarebbe prima o poi arrivato, ok, niente panico, calma, ce lo siamo detti più e più volte, tranquillo, ora mi passerà quel ballone e lo dovrò solamente appoggiare in rete, a porta libera, non posso sbagliare, passaggio, tiro, gol, passaggio, tiro e gol. Ok, oh mio dio, segnerò un mondiale, tutto il mondo mi vedrà, cioè pensa se lo vinciamo, sarà una leggenda, è certo, avrò successo, mi comprerà il Real Madrid, gli spagnoli mi adoreranno, vincerò il trofeo e il pallone d'oro, oh mio dio, e poi mi divertirò, la vita loca, mangiamo, beviamo, ci ubriachiamo, donne diverse ogni sera, beh, poi metterò la testa a posto, sì, mi faccio la famiglia, vivrò nel mio mega villone, aspetta, che esultanza faccio quando insegnerò? Eh, cavolo, è importante, è un mondiale, deve essere qualcosa di figo, qualcosa che fa dire, oh mio dio, ma quello è Simone Barone, eh, sì, ma cosa, posso fare tipo, non so, una corsa, un saltello finale, ruoto su me stesso, atterro con gambe larghe e faccio tipo un verso, tipo, sì, ma no, che cazzata mi è venuta in mente? Non avrò mai successo un'esultanza del genere, eh, posso però fare tipo... Inzadi, Inzadi, super! Pippo Inzadi, tu e a zero, tu e a zero, non segnava da una vita in nazionale, Pippo Inzadi, non segnava da una vita, non segnava dall'11 ottobre 2003, contro l'Azerbaijan. Pippo Inzadi, non segnava da una vita, 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 non segnava da una